Ma come si fa a resistere alla bontà di queste graffe sofficissime? Senza patate, senza latte, senza uova. Ok, basta mangiare, vediamo come si prepara. Per il lievitino facciamo sciogliere il lievito e parte dello zucchero in un po' d'acqua e le inseriamo nella ciotola di una planetaria con dell'altra acqua e la farina poco alla volta. Fallo a lievitare fino al raddoppio del volume. Nel frattempo, lascia in infusione la buccia di un limone in un'altra parte di acqua ed elimina le bucce quando l'impasto sarà lievitato. Ora possiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti rimanenti. L'acqua perfumata di limone, il resto dello zucchero, la farina manitoba 00, la buccia grattugiata di un limone, il sale e infine lo strutto. Far lievitare l'impasto in un contenitore imborrato per almeno 10-12 ore. Una volta lievitato, pesa dei panetti di circa 50-60 grammi. Crea dei salsicciotti e unisci le estremità. Lasciale lievitare su dei rettangoli di carta forno per altre 5-6 ore. Tuffa le graffe in olio bollente con tutta la carta forno. E un piccolo trucchetto per non rovinare la loro forma. E ricoprile ancora calde con dello zucchero. Grazie. 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 Grazie.